ciao sono lamberto curtoni violoncellista e compositore e sono qua oggi a presentarvi isolario una suite di brani orchestrali per orchestra d'archi che ho scritto nel 2010 e che ha avuto il suo debutto con cremerata baltica nel 2011 siamo qua nel 2022 oggi a proporlo e presentarlo nella sua forma intera in italia con orchestra archeia ho fatto riferimento da subito agli isolari redatti in zona veneziana e commissionati dal doge all'epoca i cartografi creavano queste mappe di isole fantastiche e proprio da questo da questo da questa idea sono partito e ho iniziato a descrivere isole fantastiche la suite si compone di sette numeri e i musicisti hanno dei soli all'interno di questa suite isolario nasce come progetto sociale anche perché sempre più sono diventati importanti aspetti che legano il territorio e le nostre acque e quindi tutto il movimento che c'è nel mediterraneo importantissimo da non scordare assolutamente e anche il problema del clima e questo isolario penso che oggi debba parlare debba suonare anche in questo modo se volete partecipare al progetto e siete musicisti o altrimenti volete sostenere il progetto da ascoltatori vi invito di andare alla pagina archiorchestra.it e trovare le modalità a presto ciao 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 ciao